Hanno tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino dell'auto alla vista di una pattuglia della polizia stradale sulla strada statale 626, ferma al chilometro 1,600 e due corrieri che trasportavano droga a bordo di una Hyundai proveniente dalla 19 Palermo Catania e diretta verso Caltanissetta, che sabato pomeriggio percorreva il tratto stradale. Gesto non sfuggito agli agenti impegnati assieme agli uomini della squadra mobile, diretti da Marzia Giussolisi e nell'attività di controllo del territorio nell'ambito del modello Trinacria, predisposto dal Ministero dell'Interno e voluto dal questore Filippo Nicastro nel fine settimana a ridosso delle festività. Una volta recuperato l'involucro, formato con la carta dei quotidiani, gli agenti hanno rinvenuto all'interno 813,129 grammi di ascisce suddivisa in nove panetti. Nei guai il 46enne palermitano Angelo Napoli e un 17enne rispettivamente zio e nipote tratti in arresto nella fragranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, Angelo Napoli è stato condotto nella casa circondariale di Caltanissetta, mentre il minore nel centro di prima accoglienza di Caltanissetta, entrambi a disposizione delle autorità giudiziarie competenti. Tre le persone arrestate invece sabato mattina dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gela in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale della Città del Golfo, poiché riconosciuti i colpevoli dei reati di furto aggravato in concorso e furto in abitazione in concorso, fatti commessi a Gela, Mazzarone e Licata dal dicembre del 2012 al 26 gennaio del 2013. Si tratta del ventenne Clisman Rinsivillo che dovrà scontare la pena di 7 mesi e 9 giorni, del ventenne Vittorio Graziano Comes che dovrà scontare 6 mesi e 18 giorni di reclusione, e infine la 41enne Angela Terlati che dovrà espiare la pena di 7 mesi e 21 giorni di reclusione. Tutti e tre insieme ad altri complici sono stati coinvolti nell'operazione Golden Boys che ha stroncato un gruppo criminale impegnato a mettere a segno delitti contro il patrimonio, ferendo spesso le vittime dei furti e delle rapine generando una vera e propria psicosi a Gela. Risveglio brusco nella notte tra venerdì e sabato invece per i residenti della via San Giovanni Bosco nel quartiere Santa Flavia a seguito del botto generato dall'esplosione di un incendio causato da una molotov lanciata contro una lancia Ypsilon di proprietà di un incensurato nisseno 55enne. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme mentre i poliziotti della sezione volanti durante il sopralluogo hanno rinvenuto una bottiglia di plastica contenente benzina. Sul caso indaga la polizia. Grazie a tutti.